Violazione delle norme in materia di conservazione degli alimenti e trasparenza degli ingredienti. Per questo i carabinieri di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, a seguito di controlli effettuati insieme ai NAS di Firenze, hanno notificato ai gestori di due ristoranti del posto sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.000 euro. In uno dei due locali sono state anche riscontrate da parte dell'ASL Toscana Centro una serie di irregolarità di carattere sanitario che hanno portato alla successiva adozione di un provvedimento di sospensione provvisoria dell'attività commerciale, in attesa che il gestore si metta in regola con alcune prescrizioni impostegli. Fra le principali irregolarità rilevate il fatto che il locale era stato intonacato con vernice assorbente e non lavabile, i frigoriferi erano vecchi e senza termometro per misurare la temperatura interna ed erano presenti strumentazioni di cucina palesemente sporche.